Finalmente una vittoria, quindi i primi tre punti diciamo, a parte la battuta. In pratica il primo tempo secondo me abbiamo fatto una buona partita, tenendo conto che davanti abbiamo delle problematiche e finché giochi con squadre come l'Ascoli o come la Regina che fai fase difensiva e poi ripartenza se notano di meno. Quando invece devi giocare per fare la partita e per provare a vincere e a far golla se notano molto molto di più. Io mi auguro dalle prossime partite, già con la nuova punta, di essere più pericolosi e sicuramente miglioreremo anche sotto questi aspetti qua. Oggi l'unico cambio che ho fatto era Pinsaia, con la rieda a posto di Pinsaia. Il resto ho mantenuto la stessa squadra che ha giocato nelle partite precedenti. Sì, voglio vederlo già noi in quella posizione perché per noi è importante che giochi, cioè deve giocare un 2001 e quindi lui potrebbe essere un candidato. Poi proveremo anche altre alternative per quanto riguarda altri giocatori, compreso il portiere e poi valuteremo chi partirà dall'inizio, sempre parlando del 2001. Sicuramente come caratteristiche è un po' una prima punta, quindi una caratteristica tipo Francioni e quindi già insieme con Peluso abbiamo un attacco che secondo me prima eravamo carenti, nonostante Antonelli secondo me ha fatto molto molto bene e anche lui è un'alternativa diciamo in avanti. Però ecco, oltre a buona avventura secondo me occorre un altro con caratteristiche diverse, cioè un attaccante bravo nell'attacco alle spazi, rapido. Ecco, speriamo anche di riuscire a trovare quel tipo di giocatore a breve. Sì, arriva lunedì, abbiamo raggiunto l'accordo ieri sostanzialmente e sarà a disposizione del mister da lunedì. No, noi avevamo le idee chiare dall'inizio, abbiamo detto il primo giorno, dove hanno arrivato due centrali e due attaccanti e in mezzo al campo ho cercato di ottenere tutte le conferme, quindi i centrali sono arrivati, in mezzo al campo le conferme le abbiamo ottenute, è arrivato Buonaventura, adesso dobbiamo trovare un altro profilo, però come abbiamo fatto fino ad oggi, senza fretta e dove ci affogà su operazioni assurde. Aspettiamo, cerchiamo di individuare un altro profilo di livello, come lo è Alex, e quindi aspettiamo con tranquillità. Perché comunque questa è una società della quale tutti iniziano a parlare bene. È chiaro che fino all'anno scorso i confini erano regionali, adesso piano piano si spandono sui confini nazionali, la società è una società stimata in tutta Italia, un po' anche per i suoi trascorsi vecchi, quindi sotto questo punto di vista ci aiuta, la piazza è una piazza importante, e Alex ha accettato questo progetto perché comunque, come ha detto il Presidente al primo giorno, non è che vogliamo fare un campionato tanto per partecipare.